Credo che sia difficile per certa gente che è abituata alle cose così come sono, anche se sono brutte, cambiare. Le persone si arrendono e quando lo fanno poi tutti, tutti ci perdono. Se il mondo è un'enorme delusione, prendete le cose che non vi piacciono di questo mondo e le sbattete via facendole finire per terra sulle chiappe. E potete cominciare a farlo oggi. Questo sono io. Queste sono tre persone a cui darò il mio aiuto. Che cosa devo fare? Non lo so, metti cervello. È il suo padre oggi. Ti ha ingravidata Arlene. In quale altro modo è stato un padre per Trevor? O picchiare qualcuno è diventato un nuovo valore della famiglia? C'è un mondo là fuori e anche se decidete di non volerlo incontrare, comunque vi colpirà dritto in faccia. Cosa ne sai se la prossima volta finito con te non alza le mani su Trevor? Non farebbe mai questo. Oh signore Arlene, non c'è bisogno che lo faccia. È sufficiente che non lo abbia. È un problema.